Ero incredula, felice e da lì ho detto no, io da qua non mi alzo più, nel senso io da questo campo non esco più. Giulia Capocci si ricorda bene la prima palla da tennis che ha colpito seduta sulla sua carrozzina, il segno tangibile della sua ridiscesa in campo dal quale non ha alcuna intenzione di uscire. La prima volta che si è scesa in campo con la carrozzina, bene o male, è stato bellissimo, forse è uno dei giorni più belli perché comunque sia vai a ritrovare delle sensazioni che erano anni che non riprovavi più. E la giovane tennista retina tantissime ragioni per non farlo, tra le tante il doppio tricolore che è riuscita ad aggiudicarsi ai campionati italiani assoluti di tennis in carrozzina. La passione per lo sport, per il tennis, inizia quando Giulia era ancora bambina. Fino ad alcuni anni fa, infatti, era una giovane promessa del tennis valdarnese, sino a quando una malattia rara ne ha limitato i movimenti, ma di certo non ha la sua voglia di praticare tennis. Ho fatto un intervento, da cui è arrivata una malattia rara, ho perso completamente l'uso di tutta la gamba destra e di conseguenza ho dovuto stopparmi col tennis per due anni. Non mi andava giù un po' la cosa di mollare il tennis così, quindi sono arrivata qua al tennis collegiotto. Abbiamo deciso di provare a fare questa cosa insieme e quindi provare a allenarsi in carrozzina. Ed in pochi mesi riesce a vincere Benzi ai titoli internazionali, portandola così ai primi posti del ranking italiano ed internazionale. Diciamo che sono riuscita a portarmi a casa, forse un po' inaspettatamente, e credo di essermi un po' meritato sul campo, sia il titolo di singolo che il titolo di doppio. Risultati che potevano valere la qualificazione per le Paraolimpiadi di Rio, un traguardo sfumato solamente per poco. Quando abbiamo iniziato abbiamo iniziato con questo obiettivo, anche se era molto difficile e molto lontano, abbiamo preferito comunque sia dare un obiettivo importante. Non ci siamo rientrati, non per tantissimo, e quindi già quello è un bel risultato. Comunque sì, adesso si punta già a Tokyo 2020.